Caro Prezzi si fa sentire sempre di più. Ci sta uccidendo perché per poter aumentare pasta, sale, la farina, le uova è un colpo di coltello dietro la testa, al portafoglio della famiglia. Stiamo tenendo l'uovo e bisogna sopravvivere. E' certo che lo sentiamo molto il Caro Prezzi e purtroppo bisogna adeguarsi, forse, non lo so, la parola giusta, però è così. Il Caro Prezzi si fa sempre più sentire sulle tasche degli italiani. I pesanti rincari di energie e carburante si riflettono poi sui costi degli alimenti e così le famiglie cercano di fare acquisti più oculati, prediligendo prodotti locali acquistati specialmente nei mercati cittadini. Si riesce a combattere il Caro Prezzi facendo la spesa al mercato? Un pochino sì, anche se sono molto cari comunque. Beh sì, sicuramente sì, sicuramente sì. Poi comunque troviamo dei prodotti veramente genuini, specialmente dal nostro Giovanni. Per questo cerchiamo comunque di venire qui al mercato, oltre a comunque dare possibilità ai nostri commercianti locali e anche per noi, no? Diciamo di sì, sono andabili più che altro, però dappertutto costa cari le cose. C'è un po' di crisi, però dobbiamo tenere duro e cercare di alimentare la produzione locale. La gente sta più attenta ad acquistare? Molto di più, sì. Purtroppo è così.